Oggi parliamo di San Lazzaro e purtroppo dopo dieci anni di amministrazione questo quartiere è stato totalmente abbandonato. Ha bisogno praticamente di tutto, non è rientrato neanche nel piano asfaltature di questo ultimo piano che la Giunta ha deliberato, se non in piccola parte è scritto via del ponte. Per quello che riguarda il resto ha bisogno di un restyling totale, le strade come già ho detto non sono asfaltate da diversi anni, i marciapiedi, l'illuminazione, il verde mancano tantissime cose. Non a caso oggi l'intervista, queste mie dichiarazioni le ho volute fare in questo piazzale, che è il piazzale dove era l'ex mattatoio che è rimasto da anni abbandonato, cresce l'erba e potrebbe diventare invece un parcheggio anche per lo stadio, perché qui noi abbiamo lo stadio, abbiamo il palazzetto dello sport con anche dei percorsi che portano in quei luoghi. E invece anche questo è un'altra opera che è rimasta totalmente in silenzio, tra l'altro in questa via del fiume i residenti si trovano a parcheggiare sulla via creando delle strettoie e anche del pericolo per le autovetture che percorrono questa zona. Certamente non possiamo ormai chiedere all'amministrazione cosa intende fare, perché è un'amministrazione questa a fine mandato, quindi possiamo parlarne pensando al futuro e pensando che una futura amministrazione debba iniziare ad occuparsi anche di questi quartieri che sono stati abbandonati così come anche le periferie. Vorrei chiedere a questa amministrazione, dalla quale ancora non arriva nessuna risposta, che fine ha fatto il famoso progetto denominato Pinqua, che sarebbe il progetto innovativo nazionale per la qualità dell'abitare che il Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile aveva già preannunciato nel 2020 e che proprio nel 2020 questo fu una passerella mediatica forte anche di questa amministrazione, un progetto che avrebbe riguardato una serie di lavori di restyling che questa amministrazione aveva annunciato per il quartiere San Lazzaro e il quartiere Vallato. Dal 2020 ad oggi invece non abbiamo saputo più nulla, ma non abbiamo più visto niente di quanto il sindaco Seri insieme alla sua giunta aveva annunciato.